Quando ero molto giovane, l'impero terrestre aveva il controllo di tutti i cieli. Lo zarra e le sue flotte vedevano tutto, sapevano tutto, punivano tutto. Chi viveva nelle colonie come noi non immaginava certo che tutto poteva essere diverso e figurarsi poi se potevamo immaginare che noi avremmo fatto parte della resistenza. Ma ad un certo momento cominciò il vero massacro. E migliaia di persone come me, ora veterani dell'Unione dei Mondi Liberi, volevano lottare contro il malvagio impero. La marina coloniale aveva rovinato gli uteri sistemi stellari, rubando cibo e minerali per aiutare il pianeta moribondo che ancora chiamavano patria. Ma la nostra ormai famosa vittoria della battaglia di Benney ci rianimò, ci offrì in modo il tempo necessari per rafforzare la nostra flotta e dette al nostro comandante e il padre una qualche ragione per credere nel futuro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.